50% del mercato asiatico per queste biciclette iper personalizzate che sono una perla, una nicchia dell'Abrianza. Siamo a Vimercate, alla Passoni, giusto Danilo? Esattamente. Che cosa ci puoi raccontare di questa azienda? Come nasce e da che cosa vi viene questa idea di rivolgervi a un pubblico così di nicchia? Nasce dalla passione, nasce dalla passione del fondatore Luciano Passoni, appassionatissimo ciclista, scopre il titanio e ha il desiderio di creare la bicicletta più bella del mondo. Che cosa si fa alla passione di titanio che non si fa altrove? Noi riusciamo a seguire il progetto dall'inizio alla fine, dallo studio della posizione in sella del cliente, quindi come il suo corpo si può adattare a una bicicletta, o meglio come adattare la bicicletta al suo corpo. Realizziamo le nostre biciclette principalmente in titanio, che è un materiale unico nel suo genere perché permette di creare ciclette molto performanti ma molto comode, soprattutto per il nostro target di utenza, di persone appassionati con qualche anno anche sulle spalle. E questa unicità permette di creare ovviamente un gioiello per i nostri clienti. Ed è proprio la Passoni Titanio, una delle imprese artigiane visitate nel suo tour tra le PMI che rappresentano il meglio del Made in Italy nel mondo, dall'europarlamentare Lara Comi. Accompagnata dalla dirigenza di Confartigianato, la Comi non ha disdegnato di indossare il camice e lavorare a questi telai unici. Qui abbiamo la nostra gamma, la nostra collezione e in particolare appunto ci contraddistinguiamo nell'ambito della produzione di telai in titanio. Il materiale è molto speciale perché ci permette di avere delle biciclette molto performanti ma anche molto confortevoli. Quindi leggeri e resistenti allo stesso modo. Leggeri e resistenti e soprattutto aiutano i nostri clienti a stare in sella anche qualche minuto in più, qualche ora in più e renderli anche più contenti della loro passione per un'esperienza molto più interessante. Ovviamente tutto quello che è la nostra realizzazione è concepita per essere orientata alla produzione italiana, infatti in questo caso è un telai di tutta la nostra produzione, anche i tessuti di carbonio. Scegliamo sempre partner italiani il più possibile. Grazie a tutti.